Ehi ragazzi, c'è Jake e bentornati in questo nuovissimo video Ehi ragazzi, c'è Jake e bentornati in questo nuovissimo video Oggi continuiamo con Call of Duty Swarfare Questo bellissimo, veramente molto bello gioco Che non ha senso, però va bene E sono su Moshpit perché non mi andava di trovare una partita differente Questi tizi molto random, tipo c'è questo qua, questa qua, molto bella E insomma, gente varia Quindi ci vediamo dopo, vai! Oh Dio ce l'ho dato finalmente Ah, quanto sono bella le connessioni italiane Oh, sì, sì, vai Ragazzi, prima sono dovuto uscire da COD e rientrare Perché quella lobby non mi trova una partita Cioè non mi faceva entrare Quindi ho dovuto rifare praticamente ogni cosa Uscendo da COD e rientrando Qua c'è la sensibilità del cecchino Quindi fatemela Dove c'è? Qua Andiamo a togliere Che sennò qua facciamo i danni Mettiamola a 6 Ok, siamo su questa mappa Che non so cosa sia Perché non ho letto niente E... Non è lag Sono con la SM1 Se non mi sbaglio Quello però è amarrato Perché giustamente lo trovo in un pacchetto Ed un... Guarda che figlio di p***o questo Che fa le fughe Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Guarda guarda No Ci ha fregato in piedi invece E insomma questo qui accade quando non giochi da tanto tempo ad un gioco Infatti non prendo in mano questo COD E non pensate male Da 5-6 giorni Quindi non potevo fare più una partita su un colpo Perché là ci vuole veramente tanto allenamento Io non ce l'avevo per farlo Qua ne ho visto uno intanto Che... No ecco Guarda qua Madonna quant'è C'è il mondo L'ho so C'è il mondo Guarda questo Muori Guarda così Magari carichi No Non c'è tempo per caricare Qui dobbiamo pensare a cose più serie Tipo il lag che mi sta invadendo casa Per esempio questa cosa molto seria Vieni vieni Sbuca Sbuca No Ma non è lag Maaa Questo che potrebbe essere anche un gioco decente Però se tu ci metti il lag Ci metti tutte queste varie stronzatine Che lo fanno diventare brutto Il gioco diventa brutto Vado detto che diventa una nonna Che schifo Sì Facendo stare il fatto che ho perso 10 minuti della mia vita Per trovare una partita Anzi per entrare in partita Code Sì è carino come gioco È decente Ci diverti pure a volte Però quando ti fai incazzare Ti incazzi e basta Questa è la cosa brutta Che di Code non va Sia per le connessioni Che per il gameplay Che per i vari fatti così Guardalo Madonna Ma lo sparo Perché non fai nemmeno di mark Era impossibile Vieni qua Vieni qua La piastrina è mia La piastrina guarda là Guarda Madonna Perché io voglio con un colpo loro Ce ne vogliono minimo 15 Perché? Perché? Non lo so Perché Perché sono stronzo Non penso Però Allora non muore Beh che ho messo il silenziatore a questa rama del c***o Quindi Non fa danno Forse è per questo Quindi dobbiamo mettere un po' di ak Guardalo Guardalo come saltano Come delle fottute Cazzelle in calore Stavo dicendo Ma si può essere così S*****o Ma non lo so Io Guarda Manchi ti marco La bomba sotto i denti Era quello là Manchi ti marco L'ho dato Che ho fatto Guarda che fa Si fa Ma che non è morto Perché io mordo i ped Quando mi cazzo Una cosa brutta questa Che non devo mordare i ped Siamo su Penso un deathmatch Deathmatch Non lo so Infatti stiamo partendo Perché faccio schifo Quindi faccio perdere la squadra A mia volta E me ne vergogno un po' di questo fatto A dire la verità Me ne vergogno Perché Nella squadra per esempio Per colpa mia Quindi Che cos'è questo rumore Mordava No Allora sono un po' Sono un po' costretto a L'orologio di m***a Sembrava una bomba Sembrava che stavo giocando a code Nella Tipo Cattura e difendola La possazione Insomma non so come si chiama Comunque una cosa con le bombe E non pensate male A quello che state pensando voi Vieni vieni Quasi mi ammazzi Vai muori Morimo 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 E muoio io Muoio io Perché Muoio io Allora questo gioco È uno Sclero Di quelli Oh Ne ho ucciso uno In nome di Dio Ne ho ucciso uno Che bello proprio Dovrei essere neanche contento Di questo fatto Questa è la cosa brutta Perché Guarda come c***o Saltano questi Dai Guarda ti giuro Se non ti ammazzo io Io ci pensavo alla provvidenza Ok Siamo stati ammazzati Dai dietro Dai dietro Dai dietro Dai dietro Muore 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 Ma che non muore 3T marker non è morto 3T marker non è morto Uno muore con 3T mani So che il 90% del problema Sono le connessioni Le connessioni Le connessioni Fammi dire le connessioni Sto gioco di me Vieni qua Guarda che l'ho vista Questa che mi stai inseguendo No non è mico veramente Il full merda che faccio io Il problema Il principale sono le connessioni Sia quelle in Italia Che fanno schifo E sia perché sul code Sono Cioè siamo ancora con gli host Dopo Non so quanti anni di code Siamo ancora con gli host Non c'hanno ancora Dei c***o Verde di c***o Ma siamo ancora con gli host Che se uno c'è una connessione Scrausa Tipo in Italia Tutta la partita salta Praticamente Questa è una cosa bella Fatta Bella E quindi Per uno che c'è una connessione Scrausa Tutta la partita Va un po' Sul marciapiede Come si dice Paradossalmente Io gioco meglio su un colpo Dove dovrebbe essere Quella più difficile Però faccio dei punteggi Migliori là Che non su deathmatch Questo non so perché Forse perché C'ho una maniera di merda Perché è la prima partita che faccio E' probabile E' probabile Come il fatto Che io spacchi questo pad Prima o poi Ma Ci arriviamo a pregradi A quello prima Fammi c***are un po' Poi spacco il pad Accapocciate Proprio così Vabbè Non si può andare bene Quindi Andiamo un po' per dire Guarda che cazzo Di giri che fanno fare questi Ma che le ha fatte ste mappe Non lo so Quali ingegneri Astronavali Hanno fatto queste mappe Di merda Veramente No Tanto per sapere Così Nemicizia Io c'ho una cassa Che ne ho non tirato affatto Quindi mi devo decidere a farlo Qua se non ci muori Angelo Ma perché non muorono Non muorono Perché non muoiono mai Questi Guarda una c***a Che l'ho sentito L'ho sentito Che stava dietro Là c'è una mano Che mi inquieta E non poco Bene Scomparsa Salve Aspetta Eccoli Eccoli Mai così Che non ci è crepato Perché Loro muoiono Quando io sparo Diretto Se iniziano a saltare Andare A destra e a sinistra Io comincio a Smincare la mira E quindi Non ne ucciderò Mai più uno No no Dietro dietro No no Abbassate abbassate Guarda che figlio di Con il laser Con il laser Eppure vengono Ma come lagga Sto c***o di server Non so se sono io O il server Cioè guarda Quello con il laser Con il laser Da dietro Ti giuro Ti giuro Gioco Gioco del c***o Ragazzi vi giuro Mi inizio a picchiare solo Tanto che so Incazzato Allora no Io ho detto Vabbè Faccio un game Sul c***o Perché Non lo faccio Da un po' di tempo E quindi Devo portare un po' di c***o Sul canale Invece no Perché mi sto incazzando Come una iena Vabbè che le iene Non si incazzano Però c'è Per fare un paragone Con qualche animale Bello E noi giriamo Come tanti c***o Mi compiaccio Di questa partita Che ho appena fatto Perché ho fatto Un punteggione Della madonna C***o della madonna Non so Ho fatto ben 5.22 Con tre attacche Che però io penso Siano una Perché qua Stiamo messi veramente male Io posso il pen Se no Lo spacco prima Ragazzi se il video vi è piaciuto Io vi ricordo di lasciare In commenti E di iscrivervi Tu ragazzi Alla prossima Ciao